Un saluto da IFA 2016, siamo da Huawei, finita la presentazione, dopo il successo, almeno nella nostra recensione di Huawei MediaPad M2, l'azienda lancia il nuovo MediaPad M3. Non fatevi ingannare dalla colorazione di queste luci, perché le luci qui sono davvero pessime, la colorazione è quella grigia, è totalmente metallico, leggermente stondato sul bordo, con una doppia frezzatura sia dietro che davanti, tasto di accensione, bilanciare del volume, fotocamera da 8 megapixel senza LED flash e abbiamo poi due speaker, uno da questa parte e uno da quest'altra, quindi è un tablet stereo. Con schermo da 8.4 pollici, QHD, quindi 2560x1600 pixel, un display, devo dire, molto impressionante, come era impressionante in positivo anche il display della versione M2. Abbiamo 4 GB di RAM, vari tagli di memoria 32, 64 e vari tagli di connettività LTE e Wi-Fi, si parte da 349 euro per la variante solo Wi-Fi da 32 GB di memoria interna. Il processore è un Kirin 950, lo vedete, quindi lo stesso sostanzialmente utilizzato anche sugli smartphone top di gamma dell'azienda, audio certificato e anche tuned, ovvero configurato da Harman Kardon, quindi speriamo hardware di audio di grande qualità, qui non lo possiamo testare a dovere vista la confusione di questo luogo. Android ha la versione 6.0 Marshmallow, personalizzato con Emotion UI 4.1 e, come non abbiamo detto, una batteria da 5.100 mAh. Insomma, un tablet che ha tutte le carte in regola per diventare un piccolo, vista la configurazione da 8.4 pollici, re nel mondo un po' assopito dei tablet Android. Questa era solo un'anteprima però da IFA 2016, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.